Sì, questa è la chiesa della mia parrocchia e come vedete non c'è nessuno. Purtroppo in questo periodo non c'è il catechismo, non c'è l'oratorio, non si celebrano pubblicamente neanche le messe e c'è un grande silenzio. Ed è proprio per rompere questo silenzio che io ho voluto fare qualcosa per tutti i ragazzi che frequentano questa parrocchia e tante altre. Ah, naturalmente ci sono anch'io, fino adesso avete sentito la mia voce e adesso mi vedete. Lo so che c'è qualche spiritoso che potrebbe dire era meglio quando non ti vedevamo Don Francesco perché la visione non è delle più belle. Sta di fatto che però ci sono anch'io e voglio dire che mi manca molto. Mi manca molto il catechismo, mi manca molto l'oratorio, soprattutto mi manca molto il poter celebrare la Santa Messa con tutti voi, con tutti i bambini, i ragazzi, i giovani, i giovanissimi. Noi qua nella nostra parrocchia abbiamo anche la scuola a San Paolo, mi manca molto. E proprio per cercare in qualche modo di colmare questa mancanza mi è venuto in mente di fare qualche incontro di catechismo. E allora così come siamo soliti fare, come quando ci siamo sempre trovati qua attorno, sul cortile, poi magari una visita in chiesa oppure nel salone, poi nei diversi gruppi di catechismo. Ecco, come facevamo di solito, noi ci incontriamo, un po' di gioco, questo non è possibile farlo in televisione, ma possiamo fare una preghiera. Proprio per dire che questo è un incontro vero di catechismo. Guarda che non va bene come stai facendo. Sì, lo so, guarda che ti vedo. Perché sei un po' distratto, stravaccato sulla poltrona, magari che stai un po' abbracciato o litigando con tuo fratello o tua sorella. Mettiti con posto, come siamo abituati a fare. E iniziamo insieme facendo la preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amo. Ecco, in questo periodo dobbiamo ricordare tante persone. E voi, bambini, ragazzi, avete un grande potere. Quello di essere ascoltati dal Signore prima degli altri. Per questa ragione, allora, preghiamo per tutte le persone che sono ammalate di coronavirus. Per tutti coloro che lo assistono. I familiari, i medici, gli infermieri. Per tutti coloro che in questo periodo lavorano. Per tutte quelle famiglie che invece sono a casa. E sono tanti di voi rinchiusi dentro. Preghiamo perché il Signore ci faccia avvertire sempre di più la sua vicinanza. E aiuti ciascuno, i malati, chi li assiste, a essere forti, fiduciosi, pieni di speranza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Ecco, mentre voi state guardando questa trasmissione, mercoledì 25 marzo, è una grande festa. È la solennità della annunciazione. L'angelo porta l'annuncio alla Vergine Maria e così Dio si può incarnare ed entra nella storia dell'uomo. Preghiamo, Maria, che aiuti ciascuno di noi ad accogliere suo figlio Gesù, come ha fatto lei. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Ami. Non possiamo non ricordare tutti i cari defunti. Purtroppo in questo periodo, come tutti sanno e anche voi ragazzi, bambini lo sapete, ci sono delle persone che hanno chiuso, a causa di questa malattia, la loro vicenda terrena. Ma sono vive. Sono vive davanti a Dio. Sono nelle sue mani. Preghiamo perché, oltre a essere vivi, e questo è scontato, siano anche felici. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Ami. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ami. Ecco, allora noi ci ritroviamo insieme per dire qualche cosa di utile. Infatti, noi, io, meglio, aspetto quel giorno dove finalmente qua, adesso ve la faccio vedere senza la mia presenza qua, e in tutte le parrocchie di Parma, potranno arrivare tutti i bambini, i ragazzi, alla messa che coinvolgeva, noi ce l'abbiamo qua alle dieci, coinvolgeva tutti i bambini e i ragazzi. Verrà il giorno. Però deve essere una festa vera. Una festa autentica. Ecco perché la messa, perché il nostro incontro in quella prima domenica, dove finalmente potremo celebrare tutti assieme la vita del Signore, il Signore vivo in mezzo a noi. Ecco, aspettando quel evento, tutti dobbiamo capire bene che cosa accade nella messa. Che cosa è la messa. E questo, vedete, è un catechismo che va bene per tutti. I bambini di seconda, terza, quarta, quinta, elementare, prima media. Noi li abbiamo chiamati nella mia parrocchia con i nomi dei Santi. E quindi abbiamo il gruppo di Santa Giacinta e Francesco, abbiamo il gruppo di San Domenico Savio, abbiamo il gruppo di San Guido Maria Conforti, abbiamo il gruppo di San Francesco, il gruppo di Santa Maria Coretti. Poi abbiamo il dopo Cresima, dopo i giovanissimi, i giovani. Bene, allora tutti questi gruppi che cosa fanno? Noi ci ritroveremo a messa. Ma che cos'è la messa? Qual è la straordinaria forza che nasce dalla messa? Lo dobbiamo capire. Perché per parteciparvi, per essere, come dire, realmente protagonisti di questo straordinario evento, dobbiamo capire bene che cosa accade. Allora, vediamo innanzitutto un piccolo video che dice il valore e l'importanza della messa. Ascoltate. Cos'è l'eucarestia? Che cosa succederebbe se facessi alla gente questa offerta? Chiunque salta su una gamba sola, per un'ora, riceverà 100 dollari. Senza dubbio ci sarebbero poche persone a gareggiare per questa sfida. Ma se si dovesse aumentare il premio a 1000 dollari, i concorrenti sarebbero certamente di più. E se si dovesse alzare la posta a 100.000 dollari, allora avremmo il pienone. Ora, cosa pensate che accadrebbe se avessimo offerto anche più di 100.000 dollari e per di più senza che la gente avesse bisogno di saltare su una gamba per ottenerlo? Che cosa potrebbe accadere? Durante la Santa Messa ci viene offerta la Santa Comunione. E la Santa Comunione vale mille volte di più di molti secchi pieni d'oro. Nella Santa Comunione è presente Cristo stesso. Questo la rende senza prezzo, infinitamente prezioso, e non serve nessun salto su una gamba. Quindi, se c'è un sacco di sedie vuote nella Chiesa oggi, allora è ovviamente perché molti cattolici non hanno idea di che cosa sia in realtà la Santa Comunione, non hanno idea di quello che si perdono. Quindi, cosa è la Santa Comunione? Durante l'ultima cena, Gesù prese il pane e il vino e pronunciò le parole «Questo è il mio corpo e questo è il mio sangue». Non ha detto che questo era da intendere solo simbolicamente, ma che qui abbiamo veramente il suo corpo e il suo sangue. Il Vangelo di Giovanni, capitolo 6, lo dice molto chiaro. Ora Gesù ordinò agli Apostoli di fare questo in memoria di Lui. E questo è ciò che ha fatto, l'ha chiesto fino ad oggi. Nella Santa Messa I doni del pane e del vino vengono trasformati sull'altare. La Santa Eucarestia, come i doni vengono chiamati dopo la consacrazione, appare come il pane e il vino, sa di esso e si sente come se lo fosse, ma non è più il pane e il vino. Ha l'aspetto esteriore di queste cose, ma attraverso la consacrazione è diventato veramente il corpo e il sangue di Cristo. Le apparenze, ciò che vengono chiamate specie, rimangono le stesse, ma quello che è, la sostanza, cambia. Proprio per questo la trasformazione che avviene durante la Messa si chiama transustanziazione e la presenza di Gesù sotto la specie del pane e del vino si chiama presenza reale. Questa presenza di Gesù è vera e reale, ma la sua modalità differisce dalla presenza di altre cose materiali. Se noi dividiamo le cose materiali, ad esempio il pane, a metà, allora avremo una metà a sinistra e l'altra metà a destra. Ma se si rompe l'ostia in due parti, allora non abbiamo diviso Gesù, ma solo la forma esteriore. Infatti Gesù è, come abbiamo detto prima, veramente e realmente presente nell'Eucharistia, ma non nel modo in cui agiscono le cose materiali. Piuttosto, Egli è veramente e totalmente presente in ogni parte, perfino nelle particelle più piccole. Quindi, può anche essere presente allo stesso tempo in tutto il mondo, a ogni messa. La presenza reale che Cristo ci ha lasciato in questo sacramento è un grande dono. Non era costretto a farlo, ma nel donarsi a noi sotto l'apparenza di qualcosa da mangiare e da bere, Egli ci mostra che è colui che davvero ci nutre, rafforza la nostra anima e ci fa crescere. Ecco, le persone, se sapessero il valore della messa, ci andrebbero anche, che ne so io, in ginocchio, ci andrebbero su una gamba sola, come diceva questo video. E che cos'è la messa? La messa, potremmo rire, è un miracolo, è un evento così straordinario, così eccezionale, così incredibile che non ha nessun altro paragone sulla terra se non le apparizioni di Gesù quando è risorto. Noi sappiamo che il Signore, quando è risorto, si presentava in mezzo agli Apostoli a porte chiuse, come se Lui fosse già presente e come se Lui spariva fosse ancora presente dopo che non lo si vedeva più, ma era ancora lì. Ecco, essendo ancora lì, Gesù, essendo in mezzo ai Suoi, è chiaro che la sua presenza è concreta, vera, autentica. Ecco, sentite allora questo brano famoso in cui Gesù in cui Gesù risorto mostra qual è il modo, la maniera, la forma che Lui ha scelto per essere sempre presente in mezzo a noi. Vangelo secondo Luca In quel medesimo giorno due dei discepoli si trovavano in cammino verso un villaggio detto Emmaus distante circa sette miglia da Gerusalemme e discorrevano fra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre discorrevano e discutevano Gesù si avvicinò e si mise a camminare con loro ma i loro occhi erano impediti dal riconoscerlo ed egli disse loro che discorsi sono questi che vi scambiate l'un l'altro cammin facendo. Si fermarono tristi uno di loro di nome Cleopa gli disse tu solo sei così straniero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni? Domandò che cosa? gli risposero il caso di Gesù il Nazareno che era un profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo come i gran sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato perché fosse condannato a morte e lo hanno crocifisso noi speravamo che fosse lui quello che avrebbe liberato Israele ma siamo già al terzo giorno da quando sono accaduti questi fatti tuttavia alcune donne fra noi ci hanno sconvolti esse si sono recate di buon mattino al sepolcro ma non hanno trovato il suo corpo sono tornate a dirci di aver avuto una visione di angeli i quali affermano che egli è vivo alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato tutto come avevano detto le donne ma lui non l'hanno visto allora egli disse loro ostolti e tardi di cuore a credere a quello che hanno detto i profeti non doveva forse il Cristo patire tutto questo ed entrare nella sua gloria e cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiegò loro quanto lo riguardava in tutte le scritture quando furono vicini al villaggio dove erano diretti egli fece finta di proseguire ma essi lo costrinsero a fermarsi dicendo resta con noi perché si fa sera ed il sole ormai tramonta e gli entrò per rimanere con loro ora venne che mentre si trovava a tavola con loro preso il pane pronunciò la rivedizione lo spezzò e lo distribuì loro allora si aprirono i loro occhi e lo riconommero ma egli disparve ai loro sguardi si dissero allora l'un l'altro non ardeva forse il nostro cuore quando egli lungo la via ci parlava e ci spiegava le scritture quindi si alzarono e ritornarono subito a Gerusalemme dove trovarono gli undici riuniti e quelli che erano con loro costoro dicevano il signore è veramente risorto ed è apparso a Simone ed essi raccontarono ciò che era accaduto lungo il cammino e come l'avevano riconosciuto all'ospedale del pane l'avevano Ecco questo episodio bellissimo, straordinario che ricorda l'evento del primo giorno di Pasqua, Gesù è risorto, è risorto, la tomba è vuota, dove è? Subito pensano come sappiamo che abbiano rubato, il cadavere poi invece alcune donne, la Maddalena lo vede, questi due discepoli, Cleopa e il suo amico sono sconvolti, scappano, vanno via, ma come abbiamo sentito uno sconosciuto, perché i loro occhi erano impediti a riconoscerlo, uno sconosciuto si avvicina a questi due, gli spiega le letture, quando noi ci troviamo a messa ci sono le letture, è la prima lettura, il salmo, la seconda lettura, così la messa la celebra, la vive Gesù, è Gesù che spiega le letture, che parla e dice tutto quello che si riferisce a lui, questa è la nostra messa, la messa l'ha inventata, il rito della messa potremmo dire l'ha inventato Gesù, nelle sue due grandi parti, la parola e poi come abbiamo sentito queste persone gli si scalda il cuore, che bello, gli dicono Gesù stai con noi e allora si ferma e spezza il pane, seconda grande parte della messa, la liturgia eucaristica, ecco quando noi ci troviamo ricordiamoci che il protagonista è Gesù, che parla e che spezza il pane, non dobbiamo avere i nostri occhi impediti a vederlo, come se noi appunto fossimo come i due discepoli di Emmaus, col cuore appesantito da tutte le cose, le vicende brutte, questi parlavano di quello che era accaduto, cioè della crocifissione, della morte del Signore, è finito tutto, non hanno speranze, il nostro cuore non deve essere appesantito, deve essere convinto e festoso per incontrare Gesù. E lasciatemi dire, lasciatemi sottolineare queste cose, le leggo proprio dal Vangelo, è bello quello che viene detto dal Signore, è bello perché poi lo riprenderemo nella prossima volta, questo brano del Vangelo, bellissimo perché è quello, il modo in cui Gesù sceglie di stare con noi. Allora il Signore, quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, Gesù fece come se dovesse andare più lontano. Se uno non crede, non lo riconosce, Gesù va via, riconosciamolo vivo, abbiamo fede. Voi bambini, ragazzi, pregate tutte le sere, pregate al mattino per avere fede, per vivere bene la messa, per riconoscere Gesù. E poi dice, e se insistessero, resta con noi perché si fa sera e il giorno già volge il declino. Ecco, guardate com'è bella questa preghiera perché noi conosciamo il Padre nostro e la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Questa però è la preghiera degli uomini, resta con noi Signore perché si fa sera. Diteglielo tante volte, resta con noi Signore, si fa sera. Si fa sera sulla nostra città, si fa sera sulla nostra regione, si fa sera sulla nostra nazione, dove sperimentiamo la nostra fragilità, si fa sera sulla nostra salute, si fa sera sulle nostre speranze perdute, si fa sera sui nostri progetti accantonati, distrutti, si fa sera sui nostri peccati, così spesso ripetuti. Resta con noi Signore, rimani con noi. E guardate il Vangelo com'è bello e com'è preciso. Dice, egli entrò per rimanere con loro. Gesù entra per restare con quei due, non se ne vuole andare. Entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola, presi il pane, disse la benedizione, lo spezzò, lo diede loro. Allora, allora gli occhi si aprirono, ma egli sparì dalla loro vista. Sparì dalla vista, ma non dalla vita. Sul tavolo rimane il pane. Egli entrò per rimanere con loro. Gesù entra per restare con quei due discepoli. E come fa a restare con quei due discepoli? Tramite il pane. Sparì dalla vista, ma non dalla vita. Ecco, io vi devo dire che non c'è cosa più bella, più straordinaria di celebrare la Messa. L'avventura umana più bella, quella del prete, del sacerdote che celebra la Messa. Basta celebrare una volta bene la Messa che uno è già in paradiso. Incontra Gesù vivo. Egli entrò per rimanere con loro. Non, quindi, sparisce dalla vista, ma non sparisce dalla loro vita. Non lo si vede, ma lui è lì. Ricordiamocelo allora quando torneremo a Messa. Il motivo della nostra festa è questo. Quello appunto di incontrare il Signore che è presente nel pane. Lo riconobbero nello spezzare il pane. Anche noi dobbiamo essere così. Dobbiamo essere fortunati e felici nel riconoscerlo nello spezzare il pane. Ecco, forse questo tempo, vedete, in cui non c'è la Messa, non si può celebrare, magari ci aiuta a desiderarla di più. Magari ci aiuta a essere più consapevoli del dono straordinario che è la Messa. Ecco, veramente della grazia più grande, del miracolo più grande che accade nella nostra vita. Diceva Padre Pio, forse il mondo, il nostro mondo, potrebbe vivere se non ci fosse il sole. In realtà sappiamo che la vita sulla Terra, se non c'è il sole, non c'è. Ma dice Padre Pio, potrebbe vivere. Non potrebbe vivere senza l'Eucarestia. È più facile che il mondo viva senza il sole che non la vita continui senza l'Eucarestia. Ecco il dono straordinario. Vediamo ultimo esempio, ecco di quello che, un bel esempio di quello che ci viene ricordato, o di una bella testimonianza che viene offerta per dire il fervore, l'ardore, l'amore che dobbiamo avere per l'Eucarestia, che è Gesù vivo, che rimane con noi nel pane che ci dona. Ascoltiamo, vediamo insieme. 350 chilometri a sud-ovest di Varsavia e a 330 chilometri da Cracovia si trova una città chiamata Legniza. Questa che vedete in mattoni rossi è la chiesa di San Giacinto Odrovasch. Non si tratta del santuario più bello della diocesi. Tuttavia è stato protagonista di un evento straordinario. Tutto accade durante la messa del 25 dicembre 2013. Il parroco, don Andrea Eziomra, sta distribuendo la Santa Comunione, quando il corpo di Cristo, ops, può capitare che un'ostia consacrata cada inavvertitamente a terra. E in questi casi, presto, un'apissida è colma d'acqua. In questi casi, la prassi canonica prevede che l'Eucarestia venga raccolta con devozione e deposta in un contenitore colmo d'acqua. Una volta riposta nel tabernacolo, l'ostia potrà dissolversi in maniera del tutto spontanea e naturale. Ormai sono passati più di dieci giorni, don Andrei, e quell'ostia caduta sul pavimento... ...si sarà ormai dissolta. Hai ragione. Andiamo a controllare. Che strano. Non si è dissolta per niente. Non solo non si è dissolta. Non vedi quella macchia rossa? Sembrerebbe... ...sangue. Volete dire che... Bisogna avvisare subito il Vescovo. Una volta avvisato, il Vescovo di Allura, Monsignor Stefan Ciche, istituisce una commissione teologica e scientifica per analizzare l'evento. Per i sacerdoti, il miracolo è già evidente. La commissione deve però verificare se quella traccia rossastra non sia dovuta alla presenza di una qualche muffa o agente batterico, come è capitato in altri casi. Alla prima analisi, il Dipartimento di Medicina Legale di Breslavia esclude subito la presenza di funghi o batteri nell'ostia caduta a terra. Una seconda analisi istopatologica evidenzia che alcuni frammenti sembrano esser parte del tessuto miocardico. Della commissione scientifica fa parte anche la cardiologa Barbara Engel, che, analizzando il campione ai raggi UV, individua fibre miocardiche con le tipiche alterazioni che si possono riscontrare in un cuore che ha sofferto un'agonia. Per un'ulteriore analisi, gli stessi campioni vengono portati al Dipartimento di Istopatologia della Pomeranian Medical University di Stettino, senza però specificare il luogo di provenienza. Questa seconda equip utilizza un metodo di ricerca diverso, al termine del quale giunge sostanzialmente alle medesime conclusioni della commissione di Breslavia. Dall'immagine istopatologica risulta che i campioni esaminati contengono parti frammentate di muscolo striato trasversale, molto simile al muscolo cardiaco umano, con alterazioni che appaiono di frequente durante un'agonia. Cosa potete dirci sull'origine dei tessuti? Sappiamo soltanto che possiedono DNA umano e che appartengono al gruppo sanguigno AB. È lo stesso tipo di sangue trovato nella Sindone e in altri miracoli eucaristici, come quello di Lanciano in Italia, e di Tixtra in Messico, di Buenos Aires in Argentina, e ancora di Soccolca qui in Polonia. Inoltre il gruppo AB è considerato raro, ma è abbastanza diffuso nelle zone in cui è nato e vissuto Gesù. Potete spiegare come quel pezzo di cuore si è finito lì? Perché l'ostia non si è sciolta nell'acqua? Come mai quei tessuti non si sono decomposti? Mi dispiace, la scienza non è in grado di rispondere a queste domande. La scienza non è l'unica a cercare risposte. Nell'aprile del 2016, il nuovo Vescovo di Legniza, Monsignor Zebiniev Kiernikovski, fa un annuncio solenne. I risultati delle analisi sono stati presentati in Vaticano, presso la Congregazione per la Dottrina della Fede. È stato riconosciuto il miracolo. Anche se carne e sangue non sono visibili nell'Eucarestia, la presenza del Corpo di Cristo è certa agli occhi della fede. Gesù mantiene le sue promesse, come è scritto nel Vangelo di Matteo. Io sarò con voi ogni giorno fino alla fine del mondo. Com'è buono il Signore che ci dà la conferma di quello che ha detto. Il Signore mantiene le sue promesse. Lo riconobbero nello spezzare il pane. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Ecco, ricordiamoci di questa realtà, di questa grande verità straordinaria. Proprio perché, come dicevo, magari la lontananza dall'Eucarestia faccia aumentare in noi il desiderio di poterla rivivere, gustare, di poter incontrare Gesù vivo in mezzo a noi. Ecco, per questa ragione, allora, invito tutti voi, ragazzi, bambini, a pregare sempre tutte le sere. Perché la fede aumenti e perché anche in questo tempo di particolare prova, sofferenza, bisogna stare in casa, ci sono un clima un po' pesante, non si può andare in strada. Ecco, anche in questa realtà pesante non abbiamo a perdere la speranza e anche ci aiuti a tornare tutti, particolarmente gli adulti, più vicini al Signore. Per questo insieme concludiamo il nostro incontro di catechismo come l'abbiamo iniziato, cioè con la preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ami. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Ami. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Ami. Infondi, Signore, nei nostri cuori la tua grazia e concedici una fede sempre più ardente e viva nella tua santa Eucarestia. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Ami. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, grazie della vostra attenzione di essere venuti a questo incontro di catechismo un po' particolare, ma che mi ha consentito perlomeno di vincere quel silenzio, quella grande frattura e distanza che c'è e che con la televisione un po' posso colmare. Adesso torna il silenzio, come vedete. Ma prima io vi voglio dare questo messaggio. State certi che ci rivedremo. Ci rivedremo insieme noi, qua, in parrocchia, in tutte le parrocchie di Parma e provincia. Ci rivedremo per scambiarci quell'amicizia, quella fraternità che ci lega ed esprimerla così da vicino, a tu per tu. State certi che ci rivedremo. Ce lo dice il Signore, perché Egli ci attende, ci aspetta e si vuole offrire a ciascuno nell'Eucaristia. Ed è a quella grande festa della prima domenica dopo le restrizioni sanitarie che noi ci diamo appuntamento. E l'appuntamento ce lo dà a tutti noi il Signore. Grazie a tutti.